Quattro cilindri in linea Quattro cilindri in linea La dotazione elettronica è completa, esistono due versioni con la SE che è la top di gamma ancora più completa, per esempio al quickshifter up and down e launch control. Sia versioni base che SE arrivano col 2018, un prezzo di 19.800 euro per la base e 3.000 euro in più per la SE. Sia versioni base che ogni in più per la base e 3.000 euro per la base e 3.000 euro per la base e 5.000 euro per la base e 4.000 euro per la base.